Out of Time, un omaggio a John Lennon da parte della band di Manchester. Liam Gallagher in versione cowboy, un'ambientazione onirica fatta di una luna grande e luminosa, goofy e insetti, una melodia lenta e sua dente. Si intitola I'm Out of Time, il secondo singolo degli Oasis, tratto dal loro nuovo album, Dig Out Your Soul. Un vero e proprio omaggio a John Lennon, del quale è anche percepibile la voce in un estratto dell'intervista rilasciata a Andy Peebles per la BBC Radio il 6 dicembre 1980, due giorni prima di essere assassinato. I quattro di Manchester giocano la carta della ballata romantica e accattivante per cercare di rilanciare un album che finora non è andato benissimo. Se infatti i critici lo hanno giudicato tra i migliori dei tempi di What's the Story Morning Glory, il pubblico non ha premiato i setmo CD della band, che occupa sei settimane dalla sua uscita, la posizione 32 della classifica di Billboard. Chissà che la voce e le parole di Liam Gallagher, che ha firmato solo tre delle undici tracce del disco, non riescono a risollevare le vendite dell'album.